Siamo qui oggi per onorare la memoria di Ettore Majorana in occasione della dedica di una piazza a lui, la ex piazza Umberto, Vittorio Emanuele III, che è stata inaugurata e dedicata a Ettore Majorana circa un'ora fa dal sindaco di Catania. È particolarmente piacere per me parlare in occasione di questa dedica perché essendo anch'io nato proprio qui vicino sono particolarmente contento di poter parlare, di poter onorare Ettore Majorana, una figura così importante nella fisica del Novecento. Ettore Majorana nacque a Catania il 5 agosto 1906 e scomparve, come sapete, in circostanze misteriose il 25 marzo 1938 e nella sua breve vita scrisse tre articoli fondamentali sulle simmetrie in fisica che soprattutto negli ultimi anni hanno acquistato un ruolo di primaria importanza influenzando la ricerca scientifica in tutto il mondo. Questa è una foto di Ettore Majorana presa dal suo libretto universitario, quindi circa 1924. In questa presentazione, dopo una breve introduzione sul concetto di simmetria nell'arte e nella scienza questi tre articoli verranno discussi brevemente e il loro ruolo nella fisica di oggi verrà accennato. Simmetria. Il concetto di simmetria che viene dal greco syumetros che vuol dire ordinato, organizzato, lateralmente, syumetros, con misura fu originariamente introdotto per descrivere certe proprietà di artifatti. Tutte le civilizzazioni antiche usarono questo concetto, qui vedete una decorazione sumera 2000 avanti Cristo con una simmetria di traslazione e qui una tavoletta periodo elladico 1200 avanti Cristo circa con la simmetria di riflessione. Il linguaggio necessario per descrivere le simmetrie è la matematica e i greci svilupparono la matematica e la geometria nel quinto secolo avanti Cristo e i cinque corpi irregolari tetraedo, taedo, cubo, isocosaedo, tetraedro erano poi i componenti della materia e i costituenti dell'universo attraverso l'associazione del fuoco con la tetraedro, dell'aria con la taedro, eccetera come descritto nel dialogo di Platone e Timeo. I greci pensarono anche che simmetria è associata con bellezza questo è un concetto estetico, una connessione estetica che è stata fatta da molti per esempio di Herman Weill infatti lì c'è una frase di Policleto che dice Sumedros Calossestin, la simmetria è bella lo studio della simmetria fece un altro passo avanti durante il rinascimento italiano ai poliedri irregolari si aggiungono altre strutture più complesse i cosiddetti poliedri di Archimede questa figura presa da un libro di Luca Pacioli che si chiama Divina Proporzione 1500 circa mostra uno di questi poliedri la simmetria dei corpi irregolari vennero descritti in dettaglio da Piero della Francesca nel suo trattato e nel 1500 una descrizione matematica venne introdotta che tradotta nel linguaggio della matematica moderna è la cosiddetta teoria dei gruppi di trasformazioni o semplicemente teoria dei gruppi e in quel momento si pensò che la simmetria fosse la legge fondamentale della natura e perciò divina e perciò il nome del testo Divina Proporzione qui c'è un dipinto che si trova a Napoli ai musei di Capodimonte che mostra Luca Pacioli che istruisce Guido Baldo da Montefeltro nella matematica sul tavolo vedete ci sono delle figure geometriche lì c'è un poliedro e lì c'è un testo di matematica e le simmetrie studiate dai greci e poi nel rinascimento erano simmetrie geometriche trasolazioni, riflessioni e rotazioni queste apparivano nell'arte e nella scienza anche qui un'altra figura dal VI secolo a.C. con la simmetria di trasolazione ma la simmetria divenne così importante che nel 1595 Keplero affermò il sistema planetario conosciuto allora Saturno, Giove, Marte, Terra, Venere, Mercurio può essere ridotto al moto di corpi regolari questa figura presa dal testo di Keplero ancora nel 500 scritta in latino Misterium Cosmograficum dà un'idea del sistema planetario e Keplero concluse il suo libro con una frase che è rimasta molto famosa dice credo spazioso Numen in orbe cioè credo in un ordine geometrico dell'universo l'idea che la simmetria ha un ruolo fondamentale anche in fisica divenne apparente mano a mano che la fisica passò dalla descrizione dei fenomeni macroscopici a quelli microscopici molti aspetti della fisica sono ordinati i migliori esempi sono le molecole cristalli che hanno una simmetria geometrica qui c'è l'esempio di una molecola scoperta soltanto 30 anni fa alla molecola del carbonio 60 sembra un po' un pallone da calcio con simmetria icosaedrica ma col passare del tempo divenne chiaro che anche altri tipi di simmetria sono presenti in natura non più collegate alla sistemazione geometrica di atomi in una molecola o in un cristallo ma piuttosto alle leggi della natura e le simmetrie oggi sono usate in diversi modi e qui ce ne sono scritte alcuni uno, le simmetrie geometriche che avete visto prima, discusse precedentemente due, le simmetrie dello spazio-tempo o cosiddette simmetrie fondamentali che sono in varianza delle leggi della fisica per certi tipi di trasformazioni di Lorentz tre, le cosiddette simmetrie di Gage che sono di nuovo in varianza delle leggi della fisica per trasformazioni di Gage quattro, le simmetrie di permutazione in varianza rispetto a permutazione di due o più oggetti e cinque, simmetrie dinamiche che sono simmetrie delle interazioni Ettore Majorana contribuì in maniera determinante allo sviluppo delle simmetrie in fisica nel ventesimo secolo in particolare allo sviluppo delle simmetrie fondamentali spazio-tempo e a quelle di permutazione che adesso esporrò brevemente Majorana e le simmetrie spazio-tempo fondamentali Purtroppo gli articoli scritti da Majorana sono tecnicamente molto difficili da capire e quindi io cercherò brevemente di dirvi qualcosa sulle simmetrie di Majorana alcune delle quali sono facili da capire la seconda e la terza lo sono questa prima è quella più difficile da capire ed è un articolo che Majorana scrisse nel 1932 quindi sono passati già 85 anni questo articolo permetteva di descrivere le proprietà quantistiche compatibili con la relatività che era stata scoperta precedentemente nel 1905 da Lorenz e da Einstein permette di descrivere le proprietà quantistiche di particelle con momento angolare, con spin arbitrario sia intero che semintero all'epoca quando Majorana scrisse questo articolo si conosceva solo il caso di spin zero e spin un mezzo e questa descrizione avviene attraverso una equazione che è detta equazione a infinite componenti Majorana inventò una tecnica per le cosiddette rappresentazioni del gruppo di Lorenz che precedette di anni la scoperta nel 1939 di queste tecniche da parte di Eugene Wigner io naturalmente non ho conosciuto Ettore Majorana perché è morto prima che io nascessi ma ho conosciuto molto bene Eugene Wigner che è stato molto vicino a me e una volta Wigner non è più vivo ormai ma una volta gli chiesi se conosceva questo articolo di Majorana e Wigner mi disse che non lo conosceva quindi il motivo è che l'articolo è molto matematico come Ettore stesso scrisse a suo padre da Lipsia Ettore scriveva spesso alla sua famiglia al padre, alla madre e scrisse da Lipsia dove si trovava nell'ultimo mio articolo è apparso sul nuovo cimento e contenuta una importante scoperta matematica come ho potuto accertarmi mediando un colloquio col professor Van der Werden olandese che insegna qui che è una delle maggiori autorità in teoria dei gruppi Ettore era molto modesto lui sempre diceva le cose in effetti questo è stato un articolo fondamentale della rappresentazione dei gruppi di Lawrence e l'articolo comparve sul nuovo cimento nel 1932 e il titolo è teoria relativistica di particelle con momento intrinseco arbitrario l'articolo in parte per le sue difficoltà in parte perché è scritto in italiano rimase sconosciuto completamente per 34 anni quando Edoardo Amaldi nel 1966 lo tradusse in inglese e lo presentò a una conferenza ancora oggi esso è praticamente sconosciuto eccetto che i fisici matematici che si occupano di teoria dei gruppi questo è uno degli articoli pochissimo conosciuti ancora oggi di Ettore Majorana secondo articolo la simmetria particella antiparticella una delle conseguenze della meccanica quantistica relativistica è che ad ogni particella è associata una antiparticella nel 1937 Ettore Majorana propose uno dei più fondamentali concetti di simmetria cioè la simmetria tra particelle per esempio elettroni e antiparticelle per esempio positroni il suo articolo il suo articolo anche Majorana sembra stesse lavorando a questo argomento ormai da parecchi anni ma pubblicò soltanto nel 1937 in quanto fece parte di un concorso a cattedre infatti fu un concorso che poi in cui gli si assegnò una cattedra per motivi straordinari o eccezionali e apparve sul nuovo cimento nel 1937 e qui c'è la prima pagina di quest'articolo teoria simmetrica dell'elettrone del positrone nota di Ettore Majorana e qui dice si dimostra la possibilità di pervenire una piena simmetrizzazione formale della teoria quantistica dell'elettrone del positrone facendo uso di un nuovo processo di quantizzazione quest'articolo ha come conseguenza che questa simmetria conseguenza di questa simmetria è che la misteriosa particella che era stata battezzata da Paolo e Fermi neutrino un nome italiano infatti Fermi l'aveva chiamato neutrino piccola particella neutra e la sua antiparticella sono identiche vi ho detto che l'articolo di Majorana apparve nel 1937 ma pare già lavorarsi negli anni 32-33 e quest'articolo fu anch'esso dimenticato fino agli anni 60 negli ultimi anni la simmetria particella antiparticella è diventata uno degli argomenti più importanti di ricerca scientifica nel mondo ci sono esperimenti in corso in Italia al Gran Sasso in Stati Uniti d'America in Canada in Giappone per verificare se infatti il neutrino e l'antineutrino sono identici sono la stessa particella uno di questi esperimenti addirittura ha il nome Majorana è chiamato Majorana un altro chiamato Cuore verrà inaugurato lunedì prossimo ai laboratori in FN del Gran Sasso lunedì sarà inaugurato questo quindi questa simmetria fra particelle e antiparticelle è fondamentale per tutta la fisica moderna anche il centro di cultura scientifica di Erice è intitolato a Ettore Majorana ma in particolare voglio dire che la conferenza che sta avendo luogo questi giorni a Catania ha come argomento principale quello di discutere come scoprire se il neutrino è una particella di Majorana oppure no come da lui suggerito 81 anni fa quindi un secolo dopo noi stiamo ritornando a questa problematica che era stata introdotta da Ettore Majorana nel 1932-33 questo tipo di simmetria particella antiparticella è stata estesa negli ultimi anni anche alle simmetrie cosiddette particelle a buco nella fisica dello stato condensato dove i cosiddetti fermioni di Majorana sono al momento uno degli argomenti al centro dell'attenzione di tutto il mondo scientifico e la simmetria particella a buco di Majorana ve la posso illustrare può essere illustrata come in questa figura questa figura rappresenta gli stati di energia degli elettroni con energia positiva alla parte superiore lì c'è lo zero questi sono stati di energia negativa detti buchi come vedete questa figura è simmetrica per rispetto a un piano che passa attraverso i punti di intersezione conica delle due superfici e questa rappresenta la struttura a banda di un materiale grafene che di grande attualità adesso è stato scoperto non molto tempo fa e che adesso occupa un posto importante nella ricerca scientifica nella fisica dello stato condensato terzo articolo di Majorana le simmetrie di permutazione uno altro tipo di simmetria è la simmetria di permutazione questa simmetria è rilevante per un insieme di oggetti identici per esempio le proprietà fisiche di un insieme di due oggetti uno e due rimangono le stesse se i due oggetti vengono scambiati se scambiamo uno e due le proprietà rimangono lo stesso questo tipo di simmetria divenne importante quando si sviluppò la meccanica quantistica negli anni 20 1920 e in questo caso le proprietà dei sistemi fisici sono descritti in meccanica quantistica dalla funzione d'onda si chiama psi e nei sistemi a molti corpi come molecole atomi nuclei la funzione d'onda dipende dalle coordinate dei corpi costituenti che per due particelle è uno e due e si è trovato che nello scambio dei costituenti uno e due ci possono essere due tipi di simmetria o questo oggetto funzione d'onda cambia di segno oppure no e quindi due tipi di costituenti della materia dette rispettivamente bosoni dal nome del fisico indiano Bose e fermioni dal nome di Enrico Fermi questa simmetria di permutazione può essere facilmente illustrata qui in esempio dello studio regolare del piano con dei cavalieri è un studio della parte più in basso c'è addirittura lo studio della tassellazione di una striscia di mobius con cavalieri in cui vedete che la figura è invariante per permutazione dei cavalieri in questo caso addirittura potete riconoscere che ci sono dei cavalieri bianchi e dei cavalieri neri e che la proposizione è per permutazione dei cavalieri bianchi e neri questo si chiama doppio gruppo o double group nella teoria dei gruppi il terzo articolo di Ettore Majorana ha a che fare con le cosiddette forze di scambio questo articolo fu scritto da Majorana in tedesco durante la sua permanenza all'Ipsia presso Werner Heisenberg cosa che è stata ricordata anche precedentemente e questo articolo fu un articolo fondamentale per lo studio delle simmetrie di permutazione perché introdusse il cosiddetto operatore di scambio che permette di costruire le funzioni d'onda dei sistemi di più particelle bosoni e fermioni con una determinata simmetria e da questo dedusse che esistono delle forze quantistiche dette forze di scambio che non sono presenti in meccanica classica sembra che Majorana avesse lavorato su questo argomento già nel 1932 a Roma e fu solo dietro pressione di Heisenberg che si convince a pubblicarlo le forze di scambio vennero applicate da Majorana alla fisica nucleare che in quel momento era l'argomento principale della ricerca scientifica per cui l'artitolo ha intitolato come vedete qui Uwe Dill sulla teoria dei nuclei e contrariamente ai primi due quest'articolo di Majorana fu conosciuto e apprezzato immediatamente dopo la sua scrittura sia perché era in tedesco sia perché fu ampiamente pubblicizzato da Heisenberg il quale proprio alcuni mesi prima aveva ricevuto il premio Nobel Ettore stesso scrivendo al padre un'altra di queste sue lettere che lui scriveva spesso a casa dice ho scritto un articolo sullo strutturo dei nuclei che a Heisenberg è piaciuto molto e le forze di scambio nucleare sono oggi chiamate forze di Heisenberg Majorana nell'ultima parte della mia presentazione invece parlerò un po' di da Majorana ad oggi in aggiunto al neutrino di Majorana e alle forze di Majorana il contributo di Ettore di Majorana allo studio delle simmetrie in fisica è ancora oggi particolarmente sentito vi ho detto che molti esperimenti in questo momento stanno facendo molti di questi esperimenti per vedere se il neutrino è uguale alla sua antiparticella ma anche l'operatore di scambio l'operatore di Majorana è molto utilizzato oggi e questo operatore ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di tutte le teorie quantistiche dei sistemi a molti corpi specialmente in quelli con simmetrie dinamiche e due esempi di queste teorie sono il modello bosoni interagenti con simmetria dinamica U6 da me introdotto con Arima nel 1975 per descrivere i nuclei atomici e il modello cosiddetta vibroni con un altro tipo di simmetria da me introdotto per descrivere le molecole in ambedue questi modelli grande uso è fatto dell'operatore di Majorana per esempio come è descritto in due dei miei libri esplicitamente uso degli operatori di scambio di Majorana brevemente per dirvi qualcosa sulla matematica che è connessa con questo in meccanica quantistica l'energia del sistema non è continua ma assume valori discreti che sono detti livelli quantici e l'insieme dei livelli quantici è detto lo spettro e la simmetria dinamica si manifesta nella regolarità dello spettro di un sistema quantico e gli operatori di Majorana servono per costruire le cosiddette rappresentazioni del gruppo delle permutazioni e dei gruppi che sono a loro collegati che sono alla base degli spettri del sistema quantico in considerazione adesso negli ultimi 50 anni la ricerca di ordine e simmetria in natura si è sviluppata enormemente in particolare le simmetrie di Gage che furono introdotte in elettrodinamica alla fine del XIX secolo hanno acquistato grandissima importanza nella seconda parte del XX secolo dopo la scoperta che la maggior parte se non tutte le leggi della fisica posseggono questo tipo di simmetria e finalmente il concetto di simmetria è stato ulteriormente allargato nella seconda parte del XX secolo con l'introduzione delle cosiddette supersimmetrie ed esempi di supersimmetrie dinamiche sono stati trovati negli spettri dei nuclei atomici anche nelle costruzioni delle supersimmetrie dinamiche gli operatori di scambio hanno un ruolo fondamentale e in questo caso scambiano un bosone con un fermione e vengono detti super operatori di Majorana in conclusione la natura mostra a tutti i livelli del mondo microscopico una struttura ordinaria come scritta il famoso matematico tedesco Herman Weill la natura ama la simmetria Ettore Majorana fu uno dei primi scienziati al mondo insieme a Eugene Wigner e Herman Weill a capire l'importanza delle simmetrie in natura e il suo contributo fu quello di sviluppare antetempore la matematica necessaria per la descrizione delle simmetrie spazio-tempo e di permutazione e come ricordo come scrisse Galileo la fisica e la descrizione dei fenomeni naturali ma la matematica e il suo linguaggio Ettore Majorana fu perciò un genio precursore perché fu un precursore di queste tecniche cento anni prima di quando poi sono state sviluppate sono state ottenute e come scrisse Enrico Fermi in una sua lettera ha uno dei più forti ingegni del nostro tempo e il suo contributo rimarrà negli annali della fisica per sempre quindi come epilogo ripetendo un po' quello che abbiamo detto nell'introduzione nel prologo Ettore Majorana ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della fisica nel ventesimo secolo specialmente al ruolo delle simmetrie in fisica che descrivono l'ordine della natura ed è dunque particolarmente appropriato che la città di Catania che gli diede i Natali gli dedica una piazza e noi come comunità dei fisici in Italia e nel mondo ringraziamo il sindaco la giunta per aver riconosciuto il contributo di Ettore Majorana all'università grazie per l'ascolta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti